Come possono partecipare ai processi di decarbonizzazione i siderurgici italiani, che sono grandi consumatori di energia? In vari modi, innanzitutto ottimizzando i loro processi e quindi risparmiando il più possibile i consumi energetici. Ma negli ultimi anni i siderurgici hanno anche incominciato attività molto innovative. In primis molti di loro si sono resi protagonisti di investimenti in fonti rinnovabili e recentemente hanno incominciato a negoziare contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, che consentono agli investitori in energie rinnovabili di poter fare l'investimento e ai consumatori, ai grandi consumatori di energia, di avere un prezzo stabilizzato nel lungo periodo. La nostra azienda, Duferdofin, Newcor, un joint venture tra la Duferco e la Newcor, ha annunciato recentemente un grande investimento in un nuovo laminatorio per la laminazione di travi di acciaio, che sarà completamente alimentato da energie verdi.